26 agosto 2018, Musile di Piave, Trattoria alla Fossetta. Ritorno al futuro con la Domenica degli Artisti 2. Sempre più ricca di spunti artistico-culturali e rigolosissime proposte enogostronomiche, torna il 26 di agosto, nel magnifico giardino della poesia dell'antica Trattoria alla Fossetta, la Domenica degli Artisti 2, originale evento di questa caldissima estate 2018. La manifestazione, patrocinata dal Cenacolo delle Bricole, ha come scopo principale il ripristino dell'antico rito del coinvolgimento nel movimento creativo, di cui, a dire il vero, si stanno perdendo persino le tracce. La Domenica degli Artisti 2 sarà anticipata sabato 25 agosto da una curiosa performance culinaria dove la torta, nelle più svariate interpretazioni, la farà sicuramente da padrona.